Allora cari ragazzi, cari amici, no anzi che cari amici, quali cari amici perché adesso non voglio rivolgere i miei iscritti ma a quei poveri mentecatti celebrolesi che ogni volta mi rompono le scatole Non parlo neanche di quelli che offendono gratuitamente perché ormai ne ho piene le tasche, ne sono abituo, ne sono veramente a suo fatto Mi rivolgo a quei poveri dementi che ogni volta sotto nei video, ma vai, vatti a vedere il video di quello, vatti a vedere il video di quell'altro Allora quei cretini la inizio a dire una cosa, scaricatevi l'app OneFootball che vi permette di restare aggiornati 24 ore su 24 e seguite le varie news di mercato Questa cosa qua dico, perché è l'unica cosa che possono fare, l'unica cosa che magari riescono a comprendere Allora, perché faccio questo video? Perché gli devo dare una spiegazione, sì, sì, gliela devo dare, gliela devo dare una spiegazione Perché da soli non ci arrivano Quando voi mi indicate il video di quello, di quell'altro, di questo, di quest'altro Fate un'offesa a voi stessi, fate un'offesa a voi stessi Allora, qui, chi vede un video su YouTube, chi vede un video di un tifoso, siamo ancora, dobbiamo essere ancora più specifici Un video di un tifoso su YouTube è per intrattenimento Non per recepire informazioni, perché le informazioni che vi possiamo dare noi sono quelle che leggiamo Dagli articoli che spulciamo su internet Quindi questo possiamo dirvi noi, perché? Perché? Perché nessuno di noi Ascoltate e aprite bene le orecchie Nessuno di noi tifosi, nessuno, nessuno, dai più grandi ai più piccoli Lavora per la società FC Internazionale 1908 Milano Nessuno, mi dispiace, mi dispiace, forse non lo sapevate, ma nessuno Allora, se non lavoriamo per la società FC Internazionale Milano Come vi possiamo dare informazioni vere? Come possiamo? Noi ci limitiamo ad ascoltare le varie news E a reagire, a reagire al nostro modo Per intrattenimento Ma se voi siete qui su YouTube per recepire informazioni Vuol dire che siete veramente dei celebrolesi Lo siete veramente perché non avete capito un cappero Un cappero di quello che siamo qui a fare noi Mi dispiace, mi dispiace, ma è così È così Quindi, facciamo anche dei no Donato Inglese, Luca Mastrangelo Hermes Messaggero, quello che più di tutti mi cittate Neanche lui, neanche lui Lavora per FC Internazionale Milano Mi dispiace, ma è così Fabio Bergomi Gianluca Castellano Mario Inter, Luigi Inter, Giavigo Ve ne potrei dire tantissimi, tantissimi Non lavorano per FC Internazionale Milano 1908 Mi dispiace, ma è così Quindi, loro, come me Possono leggere la notizia E reagire qui Davanti a una telecamera E questo che facciamo E si chiama Intrattenimento Deficiente che non c'è altro che non vuoi capire Intrattenimento Deficiente Celebroleso Quando mi dici vai a vedere i video di quelli e di quell'altro Celebroleso Mamma mia Poveri noi Poveri noi Esistono già i giornali Che a loro volta Alterano le notizie Vieni qui dai youtubers Per prendere notizie che loro prendono dai giornalisti E quindi automaticamente vengono alterate E tu credi che tramite noi hai delle fonti di notizie Celebroleso Deficiente Mamma mia Mamma mia Vai a vedere i video di quelli e di quell'altro Mi dispiace Non lavoriamo per FC Anche perché se lavorassimo per FC Internazionale Non potremmo venire qui A parlare A dire E a reagire come ci piace Non potremmo farlo Non potremmo farlo Mi dispiace Ma non potremmo farlo Ascoltando poi veramente la conferenza di Spalletti Peggio Peggio E' stato peggio Perché Spalletti Uno dei pochi Che almeno ti dice le cose veramente Come stanno Ha detto chiaramente Quando voi Siete sempre pronti a difendere questa società Ha detto chiaramente Che mi avevano fatto delle promesse Che non sono state mantenute Ascoltatelo Ascoltatelo E siete capaci di criticare L'unica persona che vi dice le cose come stanno Perciò il mondo è finito Perché siamo capaci Di criticare L'unica persona Che ti dice le cose come stanno Perché la colpa E' sempre dell'allenatore La colpa E' sempre dell'allenatore L'ha detto chiaramente Si che Cansello e Rafinha Non saranno riscattati Ma che potranno essere acquistati Ok Ma Cansello Se non lo riscatti adesso Ok Non lo puoi fare Dopo dovrei pagarlo 50 milioni E quindi non lo prenderai Perché 50 milioni Non lo prendi Per Rafinha Ci sono più possibilità Ma quello che mi ha scoinvolto E che L'ho detto chiaramente Ancora una volta Mi hanno fatto delle promesse Non sono state mantenute Cioè L'ho fatto capire Veramente L'ho fatto capire E la nostra fortuna E che finché c'è spalletti In panchina Significa che forse Abbiamo delle piccole garanzie Ma se se ne va a lui E' finita E' finita E' finita E siamo pronti Siamo pronti Sempre a difendere questo suono Non ho capito questo suoning A voi che vi dà Non ho capito cosa vi dà Che siamo sempre pronti A difendere Guardiamo i fatti Guardiamo i fatti Ragazzi Come mai un certo sabatini Se n'è andato Come mai Se n'è andato Chiedetelo Chiedetelo Ai vostri amici Chiedetelo Come mai Quella notizia Non è più Guardate Casomai Di quella notizia Non se ne parla mai Non se ne parla Chissà come mai Ragazzi miei Celebrolesi Perché questo video E' per voi Cercate un pochettino Di svegliarvi Di svegliarvi Magicamente Per una volta nella vita Svegli Sapete che è bello Vivere svegli nella vita Va bene Vi invito nuovamente A fare quello che faccio io Perché è l'unica cosa Che possiamo fare Scaricare Alcune app Come OneFootball Che vi permettono Di rimanere aggiornati Solo questo Possiamo fare noi Perché noi Ripeto ancora una volta Non lavoriamo in società Per l'FC internazionale Milano Ci piacerebbe tanto Ci piacerebbe veramente tanto Ma non ci lavoriamo Purtroppo E quindi Di notizie certe Non possiamo darvele Ci limitiamo a reagire Davanti ad una telecamera Sveglia Sveglia Celebroleso Se ancora non l'hai fatto Lascia un like Alla mia pagina Facebook Iscriviti al canale YouTube E seguimi su Instagram